Capitolo 6. Brand reputation. Come usare le recensioni per abbattere i costi di acquisizione clienti. Per qualsiasi brand online, le recensioni sono fondamentali per testimoniare la propria affidabilità e autorevolezza nel settore. Sono decisive anche per il cliente. Nel 2020, l'87% dei consumatori ha affermato di leggere abitualmente le recensioni online prima di effettuare un acquisto. In caso fossi titubante in merito, voglio fugare ogni dubbio sottoponendoti i nomi di tre siti che ti faranno sicuramente cambiare idea. Quando navighi su Amazon, TripAdvisor o Booking, la qualità delle recensioni ai prodotti o servizi che stai visionando non è forse determinante? Dubito che decideresti di acquistare un articolo con pessime recensioni o di prenotare una stanza o una cena presso una struttura che viene dissacrata senza scrupoli nei commenti che scrolli lungo la pagina. Prova a immaginarti in veste di avvocato. Le recensioni costituiscono le prove che permettono di scagionare il tuo assistito. Dunque, più ne possiedi, è meglio è per lui, il tuo brand, che può essere prosciolto dall'accusa non esplicita ma piuttosto un timore insito nei potenziali clienti di non essere affidabile. Il cliente, infatti, teme di trovarsi di fronte a una over promise e di acquistare un prodotto o un servizio che non corrisponde a quanto promesso. Per questo è cruciale rassicurarlo attraverso i feedback entusiasti di altri clienti che hanno scelto di testare i tuoi servizi e, soddisfatti, sono tornati non solo per promuoverti a pieni voti, ma anche per raccomandarti ad altri utenti. Le recensioni online rappresentano un esempio attualissimo di ciò che quasi 40 anni fa Robert Cialdini ha denominato Riprova sociale, social proof, nel suo libro Le armi della persuasione. In base a tale fenomeno psicologico, le persone tendono in media a ritenere maggiormente validi i comportamenti e le scelte effettuati da un elevato numero di persone. Leggere una quantità sterminata di recensioni online sul sito sul quale si sta navigando è esattamente come notare un'interminabile fila fuori da un negozio, ovvero ci rassicura enormemente sulla qualità degli articoli in vendita. Uno dei vantaggi cruciali di questo potente mezzo è che un numero abbondante di recensioni permette di abbattere i costi di acquisizione clienti. I prospect, infatti, decideranno di acquistare i tuoi prodotti o servizi perché convinti della loro efficacia non dalle tue sponsorizzazioni, che ovviamente non potrebbero che decantare la bontà del servizio offerto, bensì persuasi dalla soddisfazione che incontreranno leggendo i feedback di clienti come loro, che non hanno alcun interesse a recensire positivamente quanto acquistato. Senza contare che, come dimostrato nel paragrafo precedente, un numero sorprendente di recensioni garantirà la rassicurazione legata alla riprova sociale. Paragrafo 6.1. Come ottenere recensioni positive solo da clienti soddisfatti in modo automatico e continuo. Lascia che ti ponga una domanda. È più facile ricevere una recensione spontanea da un cliente soddisfatto o da un cliente insoddisfatto? Il cliente non soddisfatto, mosso dalla delusione, sarà più propenso a recensire negativamente la azienda rispetto a un cliente soddisfatto. Ecco perché affidarsi al caso e alle recensioni spontanee non rappresenta una strategia vincente. Il rischio è di ritrovarti con poche recensioni, prevalentemente negative, che inficeranno la reputazione del tuo brand e creeranno non poche frizioni alla vendita. Così facendo, non ti assicurerai un flusso costante di testimonianze che legittimino il tuo business e che ti facciano apparire affidabile agli occhi dei tuoi prospect. Inoltre, nel 99% dei casi, a una raccolta di recensioni spontanee difficilmente segue una vera e propria strategia di impiego delle stesse nei materiali di marketing dell'azienda – email, cataloghi, siti web, blog, ecc. Ed è un vero peccato, vista la loro potenza. Non implementare un sistema strategico e automatizzato di raccolta recensioni potrebbe anche costarti in termini di revenue. Un cliente che ha ricevuto una raccomandazione su un prodotto spende infatti in media il 13,2% in più di un cliente che non ne ha riscontrate. Lo scenario migliore per il tuo business prevede un flusso continuo e automatizzato di recensioni positive. Le grandi aziende lo sanno bene. Ti sarà infatti sicuramente capitato di ricevere da parte di Amazon Review la richiesta automatica di recensire un prodotto dopo averlo acquistato. Se noti, nel tuo account vi è un'intera sezione dedicata alle recensioni dei prodotti che hai acquistato. Amazon ti invita a condividere le tue opinioni perché le recensioni dei clienti aiutano altri clienti potenziali a saperne di più sul prodotto e a decidere se è quello giusto per loro, eliminando eventuali reticenze all'acquisto. Quando riceve una recensione da parte di un cliente soddisfatto, Amazon lo incentiva immediatamente a scriverne addirittura altre. Come puoi notare in calce a questa mail di ringraziamento, il cliente Marco è invitato a valutare un altro articolo del passato, se lo desidera. In un'ottica strategica, l'utilizzo delle recensioni è tra le armi più potenti e a minor costo per incrementare le vendite. Ottimizzando un sistema costante di raccolta di recensioni potrai impiegarle anche nei tuoi materiali di marketing, email, cataloghi, siti web, blog. Non sottovalutare questo aspetto, poiché le persone tendono a fidarsi più dei propri pari che delle aziende. Ai contenuti di autopromozione stanno subentrando sempre più gli user generated content, UGC, contenuti che comprendono non solo le recensioni, ma anche ripost di materiali creati dai clienti come foto e video. Ma come automatizzare la raccolta di recensioni? Anche senza l'infrastruttura e la disponibilità di budget da investire delle grandi aziende, persino le PMI possono automatizzare il processo di raccolta delle recensioni. In questo, ancora una volta, l'approccio conversazionale giunge in tuo aiuto, semplificandoti il lavoro e massimizzando i risultati. Se il tuo brand è solo all'inizio della sua storia, non preoccuparti. Non occorre aspettare di possedere un bacino infinito di clienti cui chiedere di recensirti. Puoi approfittare adesso di coloro che già ti hanno scelto e iniziare a ottenere un maggior numero di feedback positivi rispetto alla concorrenza. In ogni caso, il primo step è assicurarti che le recensioni siano positive e provengano da clienti soddisfatti. Nella vita reale, chiederesti mai una recensione a un cliente sul piede di guerra? Ovviamente no. Inviteresti a recensirti solo i clienti felici e super soddisfatti che ti ringraziano per l'ottimo prodotto o servizio che offri. Anche in questo caso, gli applicativi conversazionali simulano esattamente ciò che accadrebbe nella realtà. Lo strumento che ci garantisce di selezionare esclusivamente gli utenti soddisfatti è il sondaggio, tool che abbiamo analizzato nel capitolo precedente. Esso è fondamentale perché permette all'azienda di scremare i clienti soddisfatti da quelli che non lo sono. Testando infatti in uno step precedente la soddisfazione dei clienti, eviterai di proporre agli insoddisfatti di rilasciarti recensioni inevitabilmente negative. Ricordi le domande di primo livello che il chatbot sottopone al cliente durante il sondaggio? Esse mirano a raccogliere valutazioni a punteggio, da 1 a 5 ad esempio, di tutti gli aspetti cruciali del tuo business. In questo modo assicurerai al chatbot dotato di capacità di calcolo e incaricato alla Customer Survey di comprendere il grado di soddisfazione del cliente e di agire di conseguenza. Se il cliente è soddisfatto, sarà invitato a lasciare una recensione positiva cliccando su un pulsante di chiamata all'azione che lo indirizzerà sul canale scelto dall'azienda per raccogliere le recensioni. Per esempio sulla pagina Facebook aziendale, sulla pagina Google My Business o ancora su qualsiasi altro portale di recensioni, come Trustpilot o TripAdvisor. La scelta del canale è a completa discrezione dell'azienda, in base alle sue preferenze e necessità strategiche, nonché al suo pubblico. Riprendiamo per un attimo l'esempio del sondaggio di Soap esposto nel capitolo precedente. Dopo un tempo ragionevole che permetta al cliente di testare il prodotto, vengono poste 5 domande che prevedono una risposta a punteggio, da 1, minimo livello di soddisfazione, a 5, massimo livello di soddisfazione. Il punteggio complessivo di massima soddisfazione sarà dunque 25. Se il questionario supera i 20 punti, il cliente verrà valutato come soddisfatto e sarà invitato a recensire Soap sui canali preposti. In caso il sondaggio confermasse un punteggio inferiore, il chatbot porrà ulteriori domande di secondo livello per sapere cosa non è andato per il verso giusto, permettendo in questo modo all'azienda di migliorare i propri prodotti o altri aspetti determinanti, le informazioni a riguardo, i tempi di consegna, eccetera. Grazie a questo approccio conversazionale alla raccolta di recensioni automatizzato al 100%, detersivoinscatola.com è diventato in meno di 18 mesi di attività conversazionali uno tra i siti e-commerce del suo settore più recensito d'Italia. Ad oggi Soap conta oltre 260 recensioni positive e pressoché zero recensioni negative. E dato che le persone tendono a fidarsi più dei propri pari, ovvero degli altri clienti che delle aziende, Soap impiega tali recensioni nei materiali di marketing, email, cataloghi, sito web, blog. Se vuoi vedere l'uso strategico che Soap fa delle recensioni, ti invito a entrare nel suo funnel di marketing sul sito catalogosoap.it. In conversational design, ad esempio, sfruttiamo ancora di più le recensioni positive ricevute dai clienti. Non ci limitiamo a raccontare attraverso le stesse parole dei nostri clienti le loro esperienze soddisfacenti, ma redigiamo veri e propri documenti di decine e decine di pagine, chiamati piani di marketing conversazionale, volte a mostrare ai potenziali clienti tutte le strategie, gli applicativi conversazionali implementati e i risultati che abbiamo generato per i nostri clienti. Ovviamente nel limite della loro privacy e di ciò che hanno piacere di condividere. A prescindere dal settore in cui ti trovi, non c'è limite all'uso delle recensioni per rafforzare il tuo marketing. Addirittura nel mondo dell'edilizia, come nel caso della lattoneria Reginato, abbiamo sfruttato le recensioni raccolte sulla pagina Google My Business per redigere e potenziare una rivista cartacea da utilizzare durante le consulenze dal vivo, in fase di sopralluogo. Non esistono settori per i quali questa strategia non sia applicabile ed efficace. Lo abbiamo validato in mercati diversissimi tra loro, dal mercato del detersivo alle agenzie di marketing, alla lattoneria, al settore del lusso, eccetera. Ogni volta che si sfrutta il potere delle recensioni, vendere è più facile e meno costoso. Come abbiamo già avuto modo di affrontare all'inizio di questo libro, ci troviamo nell'epoca in cui i costi di acquisizione dei clienti aumentano vertiginosamente di anno in anno. Non impiegare in modo strategico le recensioni dei tuoi clienti, consentimelo, è una mossa poco astuta. Grazie agli applicativi conversazionali, non otterrai solo recensioni positive in maniera continua e costante. Ma potrai anche arricchire il tuo arsenale di marketing di preziose testimonianze, tra le armi più potenti a tua disposizione, per generare nuovi clienti al minor costo possibile. Questi sono solo alcuni tra gli enormi vantaggi della scelta di perseguire la differenziazione dalla concorrenza e l'implementazione di una strategia conversazionale di raccolta delle recensioni. Uno strumento imprescindibile per emergere dalla massa indistinta dei competitor e affermarti tra i brand più recensiti del tuo settore. Videocorso in regalo sul marketing conversazionale Conversational Marketing Plan, del valore di 988 euro. Scopri le strategie di marketing conversazionale in grado di far fronte ai costi pubblicitari sempre in crescita e alla scarsa attenzione degli utenti sul web che erodono sempre di più i tuoi margini aziendali e minano l'efficacia delle tue strategie. Vai subito su conversationaldesign.it. Al termine di questo videocorso saprai come realizzare il tuo piano di marketing conversazionale per far crescere esponenzialmente la tua azienda attraverso innovativi applicativi conversazionali. Come imprenditore, marketing manager o libero professionista, sarai sempre in cerca di nuove strategie per acquisire clienti e fidelizzarli. Lo scopo di questo videocorso è mostrarti come generare i contatti più profilati, offrire una migliore esperienza d'acquisto, automatizzare il customer care, conoscere il tasso di soddisfazione dei tuoi clienti, automatizzare la raccolta di recensioni positive, ottenere un flusso continuo e costante di referenze dai tuoi clienti. Bonus extra. All'interno del videocorso troverai il nostro partner program che ti consentirà di provare LandBot.io, l'applicativo conversazionale numero uno al mondo, al miglior prezzo che tu possa avere.